Sicuramente noi quando lavoriamo durante la settimana prediligiamo il lavoro su noi stessi per provare a fare dei miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Sapendo l'avversario di turno che modalità di gioco potrebbe usare, questa volta invece la seconda parte del lavoro nel finale ci è sfuggita perché ovviamente avendo cambiato allenatore da poco non sappiamo quello che potranno proporre, ma siamo certi che sicuramente vorranno fare una grande prestazione. La stessa che io mi aspetto alla mia squadra perché sicuramente è una partita molto importante in questo momento e mi aspetto dai ragazzi una partita carica di motivazioni. Quello che vogliono fare gli avversari a noi di solito non ci deve interessare tanto perché come abbiamo sempre detto gli avversari di turno ovviamente in questo campionato a maggior ragione possono sempre mettere in difficoltà chiunque. Lo hanno dimostrato tutte le squadre compreso noi e con grandissima umiltà nelle ultime due giornate siamo tornati a fare dei risultati importanti e mi aspetto la stessa umiltà e le stesse motivazioni per continuare a fare dei risultati importanti perché questo gruppo può fare degli ottimi risultati e deve avere l'ambizione di volerci provare. Io non parlo mai di turnover anche se voi spesso mi avete accusato di questo, per me ho tanti ragazzi bravi a disposizione e di volta in volta provo a mettere quelli che penso siano migliori per la partita che affrontiamo senza pensare a quelle che saranno le partite che verranno. Sicuramente gli impegneri avvicinati faranno sì che ci sarà l'utilizzo di più giocatori ma questo è sempre stato così perché sono straconvinto che alla lunga riusciremmo ad ottenere dei risultati positivi con la partecipazione di tutti i ragazzi che abbiamo a disposizione soprattutto perché ne abbiamo tanti con ottime qualità. Invece degli errori io ho puntato tanto su quello che dobbiamo fare e mi aspetto dai ragazzi una prova di grandissima motivazione con grandissima umiltà e carattere provando a fare quello che siamo stati in grado di fare per tante partite quindi questo è il nostro obiettivo di domani. Il nostro obiettivo è quello di fare risultati e provando a farli come dall'inizio stiamo cercando di fare sposando un'identità di gioco, credendoci e lavorandoci per provare a migliorarla. Non credo che esistano squadre che possano pensare di giocare partite senza fare un'ottima fase difensiva e credo che sono rarissime le squadre che riescono a fare risultati con una fase difensiva mediocre quindi alla base di tutto c'è riuscire ad essere solidi e compatti limitare quelle che sono le qualità degli avversari per esaltare quelle che sono i nostri pregi. Noi sappiamo che abbiamo le qualità per provare a giocare meglio come abbiamo fatto in larghi tratti del campionato però sappiamo anche che alla base dei risultati c'è quello di essere una squadra compatta, umile, determinata che concede poco agli avversari e che nel tempo è in grado di saper giocare per i tratti che gli avversari ci permettono di poterlo fare. A livello qualitativo se andiamo a vedere la formazione di Cremona ci siano 7-8 interpreti con qualità che possono fare gioco e che possono creare soluzioni offensive quindi ne abbiamo tanti, ora abbiamo tutto il nostro potenziale offensivo che è tornato a disposizione e la nostra forza sarà quella di riuscire a utilizzarlo nei momenti giusti per ottenere dei risultati importanti perché sono sempre quelli che contano alla fine attraverso un gioco che noi non vogliamo tralasciare perché sappiamo che alla lunga è sempre la qualità del gioco quella che ti porta ad ottenere i risultati migliori. Io mi auguro di vedere un Bari motivato, questa è la parola che voglio usare oggi perché sarà determinante essere motivati per riuscire ad ottenere un risultato positivo e ripeto abbiamo tanti interpreti che possono essere importanti nella nostra squadra abbiamo vinto partite cambiando tanti giocatori perché la partita col Frosinone dopo aver fatto una brutta figura a Venezia al di là degli interpreti che erano in campo abbiamo vinto dopo aver cambiato 5-6 giocatori poi hanno rigiocato gli stessi e siamo stati in grado di vincere in passato anche riproponendo la stessa formazione delle volte non è andata bene oppure cambiando è andata bene e altre volte no sono straconvinto e continuerò a ripetervelo ma voi fate bene a sottolinearmelo perché è il vostro lavoro che non dipende da quanti giocatori disputano un tot di partite ma dipende da quanto il gruppo crede in quello che si fa e lo fa nella maniera migliore e quello mi aspetto domani dalla squadra al di là di chi siano gli interpreti che scenderanno in campo ancora non ho deciso chi dei due giocherà però sicuramente entrambi hanno le qualità per poter fare bene nella gara di domani vedremo tra stasera e domani mattina di capire quale può essere il migliore per la partita chi è indisponibile? Indisponibile di Salzano ovviamente o Economu che purtroppo ha un problemino al piede quindi per un po' di tempo non farà parte del gruppo nelle convocazioni e rimangono fuori ieri ha accusato un problema Floreo Flores e quindi non verrà convocato e non saranno convocati neanche insieme a lui Cassani e Morleo io voglio vedere la mia squadra a disputare una gara come è stata disputata nelle partite passate che ormai non contano più perché sono passate quindi è importante fare una partita con le caratteristiche che ci ha contraddistinto negli ultimi due settimane poi gli avversari ovviamente li conoscete bene sappiamo benissimo che qualità hanno perché hanno fatto tanti gol purtroppo la classifica non gli sorride però credo che sono stati in grado di fare diversi risultati positivi ultimamente non lo stanno facendo e questo per noi è un pericolo però noi sappiamo che possiamo fare bene e vogliamo fare bene